E adesso spostiamoci sulla televisione, sulla serialità televisiva, perché vi vogliamo parlare di una serie di cui si sta discutendo abbastanza, direi, che è Prisma. Sì. Questa nuova serie di Ludovico Bessegato e Alice Urciuolo, Ludovico Bessegato che forse avrete già sentito come sceneggiatore di Scam Italia e è una serie che è uscita inizio settembre mi pare, su Amazon Prime e quindi insomma rimaniamo in ambito, vogliamo definirlo, young adult così come si definiscono i libri. Oppure coming of age. O coming of age, esatto, racconta la storia di due gemelli, già questo è interessante, che sono Marco e Andrea, di Latina. Quindi siamo ambiente, diciamo, giovanile ovviamente, liceale, ecco, target liceale, di zona, come definirla? Perché Latina è una città, non è Roma, non è periferia di Roma, è un'altra città. Ve lo dico, non sembro scema, è vero che di geografia ne so poco, però insomma, perché è una location interessante, perché è una città che raccoglie anch'essa delle differenze non da poco proprio all'interno della stessa città e secondo me questo un po' si capisce a livello familiare, cioè ci sono delle famiglie un po' più borghesi, c'è una gioventù più borghese, ci sono anche semplicemente delle persone che magari non vogliono vivere nella grande città per una questione di qualità della vita, ma ci sono anche invece delle famiglie, diciamo, di status più basso, economicamente più svantaggiate, c'è una gioventù che già lavora e c'è invece una gioventù che frequenta delle scuole e frequenta anche dei corsi extrascolastici, fa degli sport a livello agonistico, quindi diciamo che è un po' come se fosse una piccola Roma in fondo, no? Ma anche una piccola società condensata, oltretutto a livello proprio filmico c'è la possibilità di avere sia una città, sia il mare, quindi sia un momento di grande urbanizzazione, caos, ma anche un caos che ti permette per esempio di andare a scuola in bicicletta, quindi grande autonomia nei ragazzi, ma dall'altra parte anche l'isolamento della casa al mare, oppure proprio il mare come momento e piccolo ritiro. Certo, buon ritiro. Allora, i protagonisti appunto, dicevamo, sono due gemelli, quindi questo già è un mondo insomma a parte. Cosa succede? Succedono tante cose, succede soprattutto che si abbiano tanti punti di vista sulla realtà e da questo immagino che nasca anche il titolo della serie, appunto Prisma, no? Il fatto che la luce entra e si rompe in varie forme. O si scomponga. Si scompone, esatto. Ci sono dei bravissimi attori, secondo me è un ottimo casting. La possiamo dire quella cosa che abbiamo scoperto ieri, secondo te? Che Marco e Andrea sono interpretati dalla stessa persona? Sì. E questa stessa persona, Mattia Carrano, è un esordiente? Sì. Ecco, questo non è facile. Solo questo è uno dei motivi per cui correre a vedere questo racconto, questa serie. E un po' anche vi abbiamo rovinato una sorpresa, perché è veramente impressionante. Anche a livello proprio, come si fa a interpretare due persone, due personaggi simili, ma diversi, con storie anche banalmente battute, banalmente acconciature diverse, e tornando proprio nel dietro le quinte, come fai a metterlo anche in scena. Certo. Questa sicuramente sarà stata una difficoltà, così come è stata una difficoltà sicuramente andare a indagare un mondo che è stato affrontato negli ultimi anni da una serie che ha avuto un successo gigantesco, che è Scam Italia, che è vero non è una serie nata in Italia, però appunto non è facile raccontare uno stesso mondo, però con un altro prodotto, cercando da una parte di seguire un solco, che sicuramente è stato un solco prezioso, aperto da Scam Italia, che è uno dei prodotti televisivi migliori degli ultimi anni, non si può dire diversamente, però ecco, cercare di fare la stessa cosa a livello di qualità, ma distaccandosi a livello di resa, di contenuti. Sì e no, nel senso che da una parte ci sono sicuramente delle cose che ritornano, se avete visto Scam Italia troverete delle cose che ritornano, anche la grande attenzione alla colonna sonora, cioè ci sono delle cose positive ovviamente che ritornano, si è cercato di essere diversi, in parte ci si è riuscito, in parte meno. In generale trovo che sia un prodotto buono comunque. Il prodotto è veramente sopra la media con grande distacco, Ludovico Bessegato è il regista di Scam Italia, è anche lo showrunner, almeno delle prime quattro stagioni, anche dell'ultima, era assente per motivi produttivi, perché era sul set di Prisma, ma anche Scam Italia, la quarta, la quarta stagione o la quinta? La quinta, quella che abbiamo da pochissimo recensito da queste parti è comunque curata e coccolata da Bessegato, però Scam è un format estero, quindi anche l'intento di Bessegato e di Urciuolo era anche di portare qualcosa di italiano, comunque portarlo con maggiore libertà, magari uscendo dal format, uscendo dal canone di Scam in generale. E la cosa divertente è che appunto si prende il tempo, Prisma si prende tutto il tempo per entrare in questo solco e ne esce molto bene anche sul finale, ha un ottimo finale, aprirà, apre, spero ad altre stagioni, però appunto con grande personalità, con grande originalità, non a caso appunto abbiamo parlato di un protagonista che si sdoppia, un protagonista con un corpo, con una voce, con anche una presenza scenica che deve essere raddoppiata nella sua semplicità, proprio perché appunto è un attore, Mattia Carrano appunto esordiente, quindi la purezza totale aggiunta di complessità. Ci sono poi anche degli altri attori molto interessanti, ognuno con una storia anche, diciamo, che vale la pena di essere approfondita, per questo vedremo se usciranno, se ci saranno altre stagioni, immagino di sì. C'è un meraviglioso, secondo me, Lorenzo Zurzolo, che è proprio il classico bad boy, non del tutto bad, insomma, con una faccia pazzesca, degli occhi pazzeschi. C'è il mondo della trap, per esempio, che è un mondo, insomma, che è estremamente presente nel target, in quell'età, in quella generazione, che noi sempre vediamo con quel pizzico di pregiudizio. Invece, secondo me, è bello che sia un po' al centro, perché è un mondo che si scopre. Sì, c'è anche qualcosa di non mai ben evidenziato, cioè l'attività agonistica, l'invadenza di uno sport agonistico, la piscina. Che è un punto in comune di tantissimi giovani. Tanti e tante. L'attività agonistica, comunque, andare a fare lo sport in una città tentacolare come Roma potrebbe essere anche molto complessa, molto ostacolata dal traffico, dalla complessità. In una città più piccola magari, appunto, è un momento di libertà totale, ma è anche un impegno. Il primo grande impegno dopo la scuola, un'attenzione all'allenamento costante, quotidiano, che magari devi incastrare nella giornata. Magari, appunto, devi fare i compiti, devi andare agli allenamenti, devi andare a scuola, ma poi magari vuoi anche uscire con gli amici. Magari, appunto, hai un gruppo musicale. Può essere trap, rock, rap. Sì, diciamo, ci sono un po' le caratteristiche della gioventù in generale. Nella complessità. Nella complessità. Ci sono ovviamente i discorsi legati agli stereotipi, ci sono i generi, ci sono gli orientamenti. C'è tanto, c'è tantissimo e quindi, insomma, affrontatela con lo giusto impegno, con la giusta complessità. Prisma la trovate su Amazon Prime, questa è la serie di cui abbiamo parlato adesso. Immagino che sentiremo qualcosa dalla colonna sonora. Sì, la colonna sonora è anche dentro il testo. Dentro il testo ci sono anche un libro di poesie fondamentale. È l'opera di Giovanna Cristina Vivinetto, poetessa trans. Il veramente centrale è molto bello che ci sia lei al centro, non sia stata rappresentata da altro o altri. Il brano musicale è molto prezioso nella sua semplicità, nella semplicità con cui può essere gestito un titolo di una canzone all'interno di una vita di un ragazzo, di una ragazza, di un adolescente, che ne rimane travolto, emotivamente coinvolto, magari si sente rappresentato dal titolo e diventa qualcosa di più. Quindi questo è No One Knows Me Like the Piano e questo è Sampa. Grazie a tutti.